Si sono tenuti questa mattina a Punta Marina i funerali di Filippo Guardigli, il 32enne scomparso domenica scorsa in un incidente stradale in via Canale Molinetto, avvenuto in tarda serata mentre era in sella la sua moto. Amici, conoscenti, colleghi, molte, moltissime le persone che si sono strette attorno ai familiari e che hanno seguito il corteo per un ultimo commosso saluto al giovane, che a Punta Marina era conosciuto e ben voluto. Mazzi di fiori, qualche messaggio di saluto, molta la commozione di chi ancora non sa darsi ragione di un evento così tragico. Da Punta Marina, poi, il corteo funebre si è diretto verso il cimitero di Marina di Ravenna. Manuela Fogliera per Ravenna Web TV